Santa Fiorentina Badessa, trapassata nel 636, nativa di Cartacena in Ispagna, era sorella dei Santi Leandro, Fulgenzio e Isidoro. Perduti i genitori in tenera età fu posta sotto la tutela del fratello San Leandro e si ritirò in un convento per il quale il fratello scrisse una regola. Governò il suo convento come Badessa. Perché tanti Santi? Commento. Perché la legge d'evoluzione ha bisogno di queste illusioni. Ma chi crea la legge d'evoluzione? Nell'esempio la creano quelli che vivono il tempo di Santa Fiorentina e anche chi è trapassato in quel tempo. Anche chi è morto in quel tempo? Certamente. Perché chi è ancora legato al ciclo delle rinascite e trapassa, continua a vivere nella forma coscienza che ha bisogno dei Santi. Se questo bisogno è molto forte e molto concentrato, provoca la forma pensiero dei Santi anche da trapassato e la legge d'evoluzione esegue nel piano fisico quella forma pensiero.